oh mio dio ragazzi dove siamo oggi, finalmente sono riuscito ad aprire il mondo, questo qua dei lucky block race sono riuscito ad aprire come vedete se ci sono i lucky block e oggi faremo una lucky block race appunto questi sono i comandi qua dei command block per settare giorno e notte qua keep inventory ovviamente mettiamo di no, si no 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 qua iscrivetevi al suo canale effect 99 che è il creatore di questa mappa non è sponsorizzato ovviamente su twitter io non ce l'ho twitter va bene ok andiamo immediatamente scegliamo la corsia mi ha selezionato in automatico la corsia blu e mi stava dando dei blocchi che io non prendo spacchiamo il primo lucky block ci esce una spada di ferro beh beh mi sembra bene secondo lucky block niente terzo terzo un orso polare beh l'orso polare è pacifico in teoria quarto eeeh e niente ho perso pure la spada di ferro perché non ho messo la keep inventory vabbè ma eravamo al sesto? no al quinto sesto eeeh lo sapevo lo sapevo eeeh lo sapevo e niente dovevo mettere la keep inventory si e niente eeeh mo questo si sdoppia ok l'abbiamo ucciso dai settimo lucky block temo che sarà oddio questo esplodiamo penso eh vediamo eeeh lo sapevo eeeh lo sapevo eeeh lo sapevo eeeh ci corriamo sopra esplode sembra di no nooo ottavo lucky block eeeh ottavo boh ma lo so prossimo lucky block vediamo un po' esplodiamo nooo dai queste ragnatele di merda e mo oddio non c'ho ancora la spada eeeh come passo io attraverso eh niente c'ho i blocchi c'ho i blocchi ma io sono tutto scemo eh io boh c'ho i blocchi e passo di qua un attimo mi faccio tipo un ponte tipo così sulle ragnatele eh guardate francop che ingegno eh si fa un ponte eeeh sulle ragnatele con dei blocchi di minecraft senza cadere cercando prossimo lucky block vediamo un po' oh armatura di ferro ok incantata anche non vediamo i vari incantamenti che abbiamo prossimo lucky block esplodiamo un albero bene prossimo lucky block un campo di zucche prossimo lucky block ancora dei gatti mi sono messo paura però dei gatti qua un piccone di diamante eeeh molto incantato ok non si apre subito che cos'è un uovo di silverfish lo mettiamo nel vuoto cerchiamo di non cadere nel vuoto perchè c'è il piccone di diamante e l'armatura no se te pareva oh sono sopravvissuto non mi è mai capitato possiamo pure rompe qua eh con il piccone di diamante perchè non ci ho pensato prima a rompe non lo so vabbè prossimo lucky block erba bene prossimo lucky block ancora abbiamo eeeh i zombie spingiamoli nel vuoto se è possibile ma vai cagare sei zombie oh sono proprio zombie raga eh guardate come sono brutti prossimo lucky block vediamo un pochino cos'è una zampa una magic rabbit pole eeeh che è jump boost non si sa di quanto però infinito penso perchè saltiamo tantissimo dei cani va bene che poi sono lupi questo un altro orso polare poi ciò che abbiamo qua esplodiamo ragnatele molto bene cos'è è una casa eh madonna una casa c'è uscita una casa ora dobbiamo passare dentro la casa dei villager per andare al prossimo lucky block se moriamo no vabbè no 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 io sono troppo sono troppo fortunato sono troppo fortunato speriamo che mi capitano i blocchi perchè li ho finiti qua proprio io porca di quella miseria l'ho saltato per sbaglio qua con la magic rabbit poon eh non si scherza eh poon poo ma no pensavo che era il vuoto di nuovo no la neve e dai con sti salti però eh non la voglio più la magic rabbit cosa no eeeh eh mo la butto sta magic rabbit pow no la levitation no la levitation eh di 3 secondi ancora moriamo attenzione ecco fatto andiamo lucky block sfortunato e te pareva di nuovo ma che cavolo è oggi water drop eh io non ci cado qua dentro eh se cado nel vuoto eh dopo come facciamo andiamo con sto lucky block di nuovo di nuovo però noi siamo furbi e usciamo con la cosa sta avvenire la notte aiuto qua ci spawnano gli zombie sulla corsia eh me lo sento eeeh cos'è mamma mia oddio mi spengo vediamo nooo sto tempio è troppo sfortunato secondo me eeeh lo sapevo lo sapevo questo ci fa lievità eeeh nooo ci muoio ci muoio ci muoio ci muoio io qua ci muoio eh eh però tutti i lucky block che ci escono eh dai da un lucky block se ci escono più lucky block li dobbiamo aprì eeeh ma che cacchio che cacchio è che stavo uscì oddio non possiamo più andare avanti purtroppo li dobbiamo eeeh purtroppo li dobbiamo aprì tutti eeeh 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 no Bob no 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 questo è il mostro più forte dei lucky block io devo andare a aprì i lucky block vai via questo ci da un'altra spadata siamo morti ok ciao Bob salutaci luoto c'è mia mamma che si sta a sentire un video dove ur madonna che culo no no vabbè qua esplodo eeeh qua esplodo eh no fortunatamente non siamo ancora esplosi però c'è un'altra shulker andiamo via perchè abbiamo aperto tutti i lucky block chi è che mi ha colpito eeeh in questo video mi sto cagando addosso a molto no fire resistance attenzione attenzione e come si fa a uscire qua no dall'inizio mi devo rifare la roba aspettate eh forse non muoio eh se mi spengo non muoio attenzione attenzione apriamo il prossimo lucky block cos'è questo effetto ah no la nausea no la nausea vabbè apriamo il lucky block madonna le incudini no la lava addirittura son morto madonna per quanti secondi ok è finita no no ah già c'è il piccone di diamante se non c'è il piccone di diamante dove fa slash kill un altro albero no la cassa di lucky block oh la cassa di slime ma che cacchio sta succedendo in questo video eh sì eh sì mi è ritornato anche il potere del salto del coniglio qua che è i porci royal ah datemi il cibo se il cibo se scusate riorganizziamoci un attimo se troviamo la pietra ci possiamo pure fare la fornace vai nooo di nuovo il tempio di lucky block cos'era c'è un blocco d'oro sopra non so che mi cadevano gli incudini in testa eh devo essere sincero rompiamo il tempio e spacchiamo i lucky block no la lievitation la lievitazione lievitazione ancora per pochino poiché poi non prendiamo neanche danno da caduta penso per la cosa rabbit ma no la tnt abbiamo rischiato di morire abbiamo rischiato veramente di morire eh di esplodere no netherrack no cos'è la pietra dell'end handstone ma a me comunque mi si è distrutto il coso per per andare avanti si è distrutta la pista quindi salto oltre direttamente un'altra casa eh eh sì la torre questa è la torre del villaggio quello della neve eh sì della neve ciaone oh buonissimo il golem di ferro se ci segue lo spawner di streghe andiamoci un po' di expo perché non si sente l'audio ce l'ho basso sì golden apple questo è buonissimo golden apple e golden apple le bacche che pure ci possiamo mangiare buonissime queste cose dove è la rabbit cosa? ok io direi di mangiare subito le bacche che non saziano tanto però almeno rigeneriamo ecco fatto ecco fatto qua non so se fa così ok tanto finchè ci sta la resistenza al fuoco uno non c'ha paura della lava ok poi il prossimo lucky block vediamo un po' esplodiamo oh no l'albero qua esplodiamo no cos'è? eeeh una benessima incantatissima senza frecce con frecce infinite no 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 una qua attenzione ok c'è un po' cos'è? no la trappola no questa questa ci vuole un quarto d'ora qua eh spero di non morire ragazzi non c'era il piccone di diamante qua ero morto beh il mercante vediamo se vende qualcosa eh eh è solo per smeraldi se trovi smeraldi eh buone questo salto automatico qua mi ha rotto le palle cos'è? le particelle di vomito su queste ma che è questo? ah vuoi il lama che ha vomitato? possiamo spingere il lama nel vuoto? si spingiamo pure il mercante nel vuoto va e pure il lama vai cagare ma sti lama? io non lo so eh altri porci meno male meno male venite qua venite venite benveni in france nooo porca di quella miseria vedete? si è buggata la mappa si è un po' buggata la mappa qua vabbè comunque qua siamo all'inizio beh abbiamo fatto un bel casino eh già dall'inizio qua cioè non siamo proprio all'inizio penso che eh qua è difficile però lo so eh ma? non cadiamo eh però avevamo lasciato un lucky block attenzione lo sapevo io sapevo che prima o poi esplodevamo eh con l'ultimo lucky block esplodevamo sicuro io stavo già pensando che non ci potevano capitare esplosioni e invece beh invece mi sembra che ci possano ho perso la zamba del coniglio non ci posso credere io il parkour non lo so fare quindi siamo proprio a posto poi prossimo lucky block esplodevamo no gatti pozioni di danno istantaneo beh ci servono contro i mob ma ho rischiato pure qua aprire i lucky block a distanza di sicurezza palle di neve eh questi si lanciano me l'ho scordato vabbè dai ce ne mettiamo all'inventario poi vediamo sì il castello di slime questo lo dobbiamo fare nel vanilla craft maledetto adesso però comunque la bestia sta solo nel nether la bestia boh il coso là che ne so io che è nether blind un colletto che si chiama è solo per dimostrazione c'è un po' di tnt che cosa moriamo sicuro ecco wow tutto questo è del nether che era questo fuochi d'artificio questo è tutta roba del nether però il legno è buonissimo ragazzi abbiamo finalmente i blocchi adesso questi bastano e avanzano possiamo andare all'altra corsia ovviamente ovviamente sì wow ok abbiamo un lucky block pure rosso porci vabbè non ce ne facciamo niente ah questo è il nuovo il nuovo blocco di ossidiana buono questo che cavolo è caduto non lo so no la shulker abbiamo le pozioni di danno però attenzione respingiamo e niente io sono proprio deficiente io sono proprio deficiente siamo morti siamo morti moriamo sangue te pareva dove stiamo adesso ah qua c'è il check va bene molto bene però ci abbiamo di nuovo la shulker te pareva la shulker la shulker di merda che si sono infami proprio le shulker dobbiamo purtroppo dobbiamo apri tutti i lucky block e non ne possiamo lasciare uno ma do si ho scampato pure la trappola e non c'è nemmeno più il piccone di diamante cos'è? ma questa è la pianta classica del nether eh del land scusate speriamo che fanno pure l'update del land cos'è? ah la gabbia di vetro manco si vedeva spacchiamo un poco sta durando tantissimo questa lucky race però vabbè il gas ma che c'è? non ho capito che è successo già nata a casa nata a casa di villageri mi è spavunata e mo cadiamo nel vuoto ah no bene male direi io salto il parkour perchè io non lo so fare il parkour qua mettiamo ossidiana perchè non si sa mai ah no tutti sti lucky block iron golem witch ma che sta esplode oh lievitazione qua muoio una tavota muoio di nuovo potere ah non ho preso ah ecco ma adesso ho preso danno eeeh che veleno fortissimo nooo e vabbè eh sì sì ma che sta succedendo raga muoio dall'inizio oddio 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 vediamo gli altri lucky block eh sì vabbè eh sì vabbè qua ci mettiamo un po' di tempo per uscire eh dai nooo questa è una trappola proprio di quelle proprio brutte eh eh meno male che c'è stata la spada di legno che uscì questa è una trappola proprio brutta eh ok un'altra la shulker ah la shulker intrappolata bene 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 spacchiamo tutto no il vetro no basta raga quelli non li rompiamo dai ecco eh ok la spada di pietra pure buona sì nooo ah pensavo che era la shulker meno male venti minuti e non siamo ancora arrivati alla fine uova di mob sì di annegato queste che era che era ok direi di spawnare questi nel vuoto sì ovviamente abbiamo altre uova qua questa me la metto item spawn nickname questo è buggato continuiamo noi che è sto debuff caduta lenta ah un buff quindi siamo effettivamente arrivati alla fine dopo 20 minuti di gara no boom no ma che è porca di quella puttana maledetta qua non lo so perché abbiamo preso un veleno fortissimo ecco ecco va dai non possiamo più continuare no si cade ogni due secondi qua dai riandiamo verso la fine che abbiamo finito sta corsia dei lucky block è diventata un porca miseria un casino da gestire riandiamo verso la fine quindi qua c'è un'altra armatura di ferro io lo sapevo che non dovevo restare vicino alla scritta boom ah no è la mia mi sa questa vabbè orso polare che va bene cavalli che vanno bene mucche che vanno bene alla fine mi sento che esplodo questo è ah è silverfish ecco mi sentivo che verso la fine dovevo morì no ecco qua c'è un villager buggato riandiamo di nuovo verso la fine per concludere dopo 23 minuti di gara possiamo finalmente concludere c'era una mucca che si trasportava però minecraft come sapete è molto pieno di bug quindi questi pure sono miei mi sembrano molto buoni si 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 questa è un'altra volta l'armatura mia il metto ah no c'ho tutto ok verso la fine l'ultimo lucky block esplodo piccone d'oro ultimo lucky block spada di ferro incantata molto bene molto bene ok che access ho fatto siamo effettivamente arrivati alla fine premiamo il pulsante e il blu ha vinto che il blu sono io questa è una gara da fare con tutti andiamo nella lobby e vediamo un po' aspettiamo che si carica no si è buggata la mappa mi sa e vabbè è un po' buggata eh però forse la che blocchi in testa ok si è caricata adesso che si deve fare? ah un'altra corsia mi ha dato bene non la voglio un'altra corsia ecco fatto lo voglio sempre si si ok quindi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani madonna che bella vedete questa mappa veramente fantastica spero che questo video vi sia piaciuto lascia un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani aspetta vediamo se esplode nooo con un nuovissimo video ciao